Domani è il giorno in cui esporremo il dipinto più prezioso Proteggi il dipinto come se la tua vita dipendesse da quello Tengo gli occhi bene aperti Ehi, devi cliccare sulla risposta corretta, dormiglione Ho soltanto altre due vite, quindi altre due possibilità Ti daremo un cartone animato completamente diverso, è una promessa Togli quelle dita dal naso e mettile sul telecomando